Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni, mi dissero che dovevo requisire due aerei per portare il loro movimento in Perù, alla festa del sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona, avrebbero aderito spontaneamente. Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto. Tutto il resto, tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, per cui in Italia non... È stupenda questa battuta, eh? Non è una battuta, non era una battuta. No, io non lo so, no, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle, a pezzi. No, che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... No, 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 l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, non è l'argomento, è l'espressione. Matrimonio a pezzi, ma come parla? Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto... È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E' due! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Ma io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è... No, la sostanza, queste... Queste espressioni... Ah, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili. Noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Guardi, se lei cambia queste, sono quindici, sono venti frasi. Ma sono sue. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa. Trend negativo. Trend negativo. Io non parlo così, non penso così. Trend negativo.